Ciao a tutti, sono Pietro Peter Kotler, mi trovo in Val di Fiemme, scusate un attimo, scusa, tu sei del posto, vero? Sì. Vedo delle scritte, dei lavori qua, ma che cosa stanno facendo? Stanno concludendo i lavori per quanto riguarda lo stadio dello sci di fondo, i mondiali del 2013. Ah, ecco, mi sembrava di riconoscere questo posto, perché generalmente siamo abituati a essere qua con la neve, e con l'erba e l'asfalto non ci capivo molto. Eh, cambia completamente la visione. Ciao ragazzi! Sì, dove sono i trampolini? Eh, ma credo che hai sbagliato posto, eh. Di nuovo? No, e dove devo andare? Eh, al solito posto. Va bene, ci vediamo al 2013, ciao! Arrivederci al 2013. Vai, va! Aspetta! No, hai detto un'altra roba. Ciao a tutti. Arrivederci a, io ho detto Val di Fiemme. Allora, arrivederci al 2013 o Val di Fiemme? È uguale, dai! Andava bene anche così. Arrivederci. Ah, avviene più tutte e due. Eh, arrivederci a Val di Fiemme 2013, sì. Arrivederci a Val di Fiemme 2013. Però? Eh, però come ce la rifà? Eh, solo questo però. Eh sì, eh sì. Facciamo solo l'arrivederci, dai. Arrivederci a Val di Fiemme. Una cosa, riuscite a dirla tutti insieme? Un po' più in qua. Tutti e tre. Ancora, ancora. Arrivederci a Val di Fiemme. Ok. Pronti? Arrivederci a Val di Fiemme 2000. E' il 12. Eh, ma lo so, devi dare anche la data, se no quella sanno. Ma a casa, ma guarderanno bene il calendario? Sì, chi? No, 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 bisogna dire. 2013. 2013. No, li abbiamo fatti tutti in un'ultima di Fiemme. Ah, ok. Allora, perché così vengono anno dopo anno dopo anno. Un attimino. Stai registrando, no? Sì, certo, logico. Questo backstage è una perla. Eh, dai 10 minuti che va. Allora, una volta detto 2013, prendete... No, non lo diciamo 2013. Arrivederci a che ci metti in confusione. Sei te qua che sbagli. Dopo Val di Fiemme uscite dalla camera. Vicenziano. Pronti? Spulso. Vai. Arrivederci a Val di Fiemme. Arrivederci a Val di Fiemme.